VORUUURR VORUUURR VORUURR 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 AAAAAAAH ti fa sta paura bro, ti va giù VORUURUR No, 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 no. Sento un po' di odore di trappo. Non ci credo, guarda, frat, film. No, non mi piace. L'ho tenuto mentre il skate si è sveglotata tutta, frat. Oh, com'è possibile? Conoscete Giacomo? Giacomo Carozzi. Non ci credo, l'ho fatto. Bro, lo sapevo. Si chiama, questa, lo sai come si chiama? Una volta che tu fai otto ore di lavoro, ti sveglotate alle sette e mezza di mattina, questa si chiama la canna di riscaldamento. Tu fumi questa e sei forte. Forte a skateare o forte nella vita? No, a skateare. Ok, nella vita invece? Nella vita no. Qua? 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 Qua si? Ah! oh no giuro che te la spacco puttano grazie 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 occhio 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 No, no, no! Come on! Come on! Come on! Oh, my God! Oh, my God! Let's go! Come on! Come on! Oh!